Salve, benvenuti all'ottava lezione di Storia dell'Arte Moderna. La scorsa volta ci eravamo lasciati parlando della pittura di luce, cioè di quel momento particolarissimo della pittura fiorentina post-masacesca in cui si accentua la ricerca sui valori del colore intriso di luce, quella amicizia dei colori di cui parlava Leon Battista Alberti nel suo trattato di pittura. Ebbene, uno dei protagonisti di questa pittura di luce che comincia intorno al quarto decennio del Quattrocento a Firenze è Domenico Veneziano. Domenico Veneziano nel 1438 scrive da Perugia, dove stava lavorando, una lettera a Piero dei Medici per ottenere la commissione della pala d'altare che Cosimo vuol far eseguire per San Marco. Domenico Veneziano è al corrente che a Firenze ci sono pittori del calibro di un Filippo Lippi e di un abbiato angelico e la commissione non va al veneziano, va all'angelico. Però nel 1439 noi troviamo Domenico Veneziano al lavoro nella chiesa di Sant'Egidio per affrescare le storie della Vergine e con lui esordisce Piero dal Borgo. Nei documenti si trova scritto Piero sta con lui, che non è nient'altro che il grandissimo Piero della Francesca. Ora questi affreschi sono andati perduti, ci resta veramente poco, che non ci consente di capire né quale fosse il momento di pittura al quale Domenico Veneziano è raggiunto, né tantomeno di capire la formazione di Piero della Francesca. Sappiamo dai documenti che per questi affreschi venne impiegata una notevole quantità di olio di lino e purtroppo appunto non possiamo adoperarli per capire, diciamo, gli antefatti dello svolgimento della carriera di Piero della Francesca. Ora, a Firenze, intorno allo scadere di questo quarto decennio del secolo, tutta la prima fase sperimentativa per ciò che riguarda le ricerche sullo spazio, quindi le ricerche spazio-compositive, la prospettiva, il rapporto appunto con la luce ed ancora l'avvio del discorso sulla linea come contorno disegnativo, ecco, tutte quante le varie strade si erano già aperte e a Domenico Veneziano, che arriva a Firenze in questo momento, evidentemente tocca il compito di accogliere questo grumo di esperienze di questa prima fase fiorentina e Piero e Domenico Veneziano restituisce queste esperienze impastandole tutte quante in una qualità luminosa solare come accade nella pala di Santa Lucia dei Magnoli, che oggi è conservata agli uffizi, dove veramente vediamo come i colori prendono variazione dai lumi, come prescriveva Leon Battista Alberti, e dove vediamo anche quanto accuratamente sia organizzato lo spazio prospettico, grazie anche alla fuga delle mattonelle del pavimento, mentre una luce terza e solare unifica tutta quanta l'equilibratissima composizione. Ora, qualche anno prima, il veneziano aveva ricevuto la committenza di un dipinto estremamente singolare, l'Adorazione dei Maggi, che è conservato ai Musei di Stato di Berlino attualmente, e questo dipinto è singolare perché da una parte Domenico Veneziano induggia sulla descrizione quasi lenticolare dei dettagli narrativi e decorativi, tanto che pare di trovarsi di fronte ad una pagina amminiata di un codice franco-fiammingo. Contemporaneamente, però, come scrisse ben Roberto Longhi a suo tempo, tutta quanta la scena è racchiusa nel pugno di cristallo della prospettiva e, tra l'altro, non è immemore, non dimentica anche quel tono, se volete, un po' cortese, fiabbesco e narrativo, che probabilmente al veneziano derivava dal fatto di aver apprezzato l'arte di Gentile da Fabriano. Per quello che riguarda Piero della Francesca, noi non conosciamo le circostanze che lo indussero a recarsi a Firenze. Sappiamo che era nato in territorio a Retino, a Borgo Sansepolcro, e non sappiamo neanche quando esattamente avesse incontrato Domenico Veneziano. E tuttavia, quanto emerge dalle prime opere di Piero della Francesca, quelle che ci sono pervenute, ci attesta un maestro veramente già maturo, tanto da poter pensare che Piero della Francesca fosse giunto a Firenze prima ancora di questo 1439, di cui abbiamo parlato a proposito degli affreschi in Sant'Egidio. E tuttavia Piero e Firenze restano estranei. Piero va via subito da Firenze, come vedremo tra poco, per elaborare un linguaggio che si pone come sintesi alta, altissima, delle esperienze fiorentine, ma anche come tentativo di superare, se possiamo adoperare questa tradizione la fiorentinità, cioè di superare quelli che erano gli aspetti che costituivano la lingua nazionale fiorentina, per cercare di costituire appunto un linguaggio sovranazionale. A Firenze invece si mira sempre di più alla difesa di un linguaggio nazionale e vedremo che è un percorso che poi troverà lo sfocio più importante soprattutto al tempo di Lorenzo dei Medici, di Lorenzo il Magnifico. C'è un artista, Andrea del Castagno, che abbiamo già incontrato, che semplifica bene questa tenuta del linguaggio fiorentino. La sua grammatica figurativa è stata definita una grammatica della sprezza, dell'energia, della potenza plastica e da questo punto di vista evidentemente Andrea del Castagno deve molto a Donatello e tuttavia a questo maestro è stato riconosciuto di recente anche un debito che egli ha nei confronti della luminosità della pittura del veneziano. Andrea del Castagno aveva esordito anche egli guardando a Masaccio, intridendolo però di trasparenze luminose ed aveva proseguito su questa strada quando si era recato a Venezia dove aveva lasciato degli affreschi nella cappella di Sant'Arasio in San Zaccaria e questo nel 1442. Quando Andrea del Castagno ritorna a Firenze lui adotta una luce fredda che modella le forme plasticamente risentite come nelle storie della passione eseguite sulla parete nord del refettorio del convento di Santa Pollonia, qui abbiamo un brano di questo ciclo e l'ultima cena dove Andrea del Castagno applica una prospettiva centralizzata del vano architettonico che è concepito come un ampliamento dello spazio reale del refettorio, spazio in cui tra l'altro è calcolato esattamente il punto di distanza dell'osservatore a circa 15 metri al centro della sala. Gli apostoli come vedete sono variamente atteggiati e il fulcro della scena è Cristo che è già consapevole del tradimento di Giuda che è rappresentato al di qua della tavola isolato mentre Cristo sta benedicendo Giovanni col capo reclinato sul tavolo. Andrea del Castagno è attento a questo discorso dei riflessi che la luce può comportare anche in brani come questi tratti dal ciclo di uomini e donne famose di Villa Carducci, tanto che giustamente è credibile che Andrea del Castagno sia rimasto impressionato dalla qualità luminosa degli affreschi di Sant'Egidio, una supposizione perché gli affreschi non ci sono pervenuti, ma sappiamo che proprio Andrea del Castagno sarebbe stato chiamato a terminarli tra il 1451 ed il 1453. Piero però, Piero della Francesca, nel frattempo era andato via da Firenze e lo ritroviamo poco dopo il 1441 a Borgo Sansepolcro dove lascia il battesimo di Cristo nella locale Badia Camaldolese, oggi il dipinto è conservato a Londra alla National Gallery e che in origine era parte centrale di un trittico e qui vediamo come in una luce zenitale che non produce ombre, Cristo in asse con la colomba dello Spirito Santo riceve il battesimo del Battista. A sinistra, dietro l'albero che divide la tavola in due parti che sono in rapporto aureo, tre figure colonnari degli angeli assistono all'evento che ignora ogni aspetto contingente e che sembra appunto porsi in una dimensione senza tempo. Nel fiume dalle acque immobili si riflettono le vesti dei sacerdoti e tutto plana sullo sfondo di questa campagna aretina, la campagna che Piero della Francesca conosceva. Piero della Francesca ritorna a Borgo Sansepolcro nel 1445 quando incomincia il magnifico politico della misericordia per l'altare maggiore della omonima confraternita. Questo politico della misericordia viene eseguito in più fasi, addirittura come si sa nell'arco di 15 anni, tanto che giustamente gli studiosi hanno distinto tra le parti più antiche e che ancora ricordano la lezione fiorentina, mentre le parti antiche ci sono i Santi Sebastiano e Giovanni Battista che mostrano una solidità di impianto che è ancora fortemente masacesca, del masaccio degli affreschi della cappella Brancacci. Mentre qui abbiamo la parte centrale, proprio la Virgine della misericordia, che si presenta in asse con l'asse centrale della composizione, è turrita quasi come un idolo arcaico e che mostra anche una qualche attenzione alle preziosità fiamminghe in alcuni particolari, cose che ci sembra suggerire è che a quest'epoca Piero della Francesca avesse già cominciato le sue prime frequentazioni urbinati. Infatti è forse durante questo primo soggiorno urbinate che Piero della Francesca esegue la flagellazione di Cristo. Ecco, questa è una delle ipotesi che sono state fatte, perché questo è un dipinto di cronologia molto controversa. Per alcuni si pone ancora all'interno degli anni 40, per altri invece all'interno del sesto decennio del secolo, cioè quando Piero ha cominciato già gli affreschi con le storie della Veracroce nel coro della Basilica della Chiesa di San Francesco ad Arezzo. Ed è un dipinto che ha un significato estremamente complesso. Vediamo che intanto è un'iconografia totalmente nuova perché accoppia la flagellazione di Cristo sulla sinistra a questi tre personaggi sulla destra che sono stati variamente identificati. E proprio l'identificazione di questi tre personaggi ha anche il rapporto alle vicende storiche che viveva contemporaneamente la storia politica e religiosa del tempo e è stata oggetto di un dibattito veramente appassionato da parte di più di uno studioso, un dipinto celeberrimo di Piero della Francesca. Per cui non conviene addentrarci ora su quelli che sono i significati diciamo iconografici del dipinto. Anche se possiamo dire che le due scene sono soltanto, ecco da un punto di vista figurativo, soltanto apparentemente distaccate tra di loro perché in realtà poi sono unificate dal punto di vista spazio-compositivo dall'unità prospettica. Unità prospettica che ancora una volta fonda su una ripartizione della scena in due parti che sono il rapporto aureo oltre di loro. Ora in questo spazio ciò che è evidente è l'importanza assegnata all'architettura e questo ci fa pensare, possiamo guardare in maniera più ravvicinata, ci fa pensare appunto che Piero in questo momento tiene conto dei contemporanei studi di Leon Battista Alberti sull'architettura. Così come del resto a suo tempo Masaccio aveva guardato al Brunelleschi quando aveva eseguito la Trinità, l'affresco con la Trinità. E qui in questa scena l'aria si presenta come nitida, cristallina, una lucentezza mattinale che intride i colori tersi e che aiuta a sua volta a definire gli intervalli tra figure e cose o aiuta anche a sottolineare singoli elementi della composizione come per esempio il soffitto a cassettoni che al centro è proprio sparato di luce che sembra essere investito addirittura dalla luce di uno spot per adoperare un termine moderno. Nel 1452 Piero della Francesca esegue, comincia un ciclo importantissimo, è uno dei cicli capitali della storia dell'arte italiana ed è il ciclo con le storie della Vera Croce nella chiesa di San Francesco ad Arezzo. Conosciamo la data di inizio di questo ciclo, appunto il 1452, perché muore Bici di Lorenzo al quale precedentemente era stato affidato l'incarico. Si è molto discusso sulla data di conclusione di questi affreschi, se cioè che essi furono terminati da Piero della Francesca prima o dopo il viaggio di Piero della Francesca a Roma, 1458-59, ma è più credibile l'ipotesi appunto, è abbastanza più credibile l'ipotesi che il ciclo fosse stato terminato prima del viaggio di Piero della Francesca a Roma. Ora, la fonte letteraria di questo ciclo, il cui committente molto probabilmente fu Giovanni Bacci, una acquisizione recente degli studi sull'argomento, dicevo che la loro fonte letteraria è la leggenda aurea di Jacopo da Varagine del XIII secolo. Ma nella iconografia dell'intero ciclo, un'iconografia che non è nuova nella storia degli studi e della pittura, storico-artistici e della pittura, in questa iconografia tuttavia Piero introduce delle varianti che sarebbero da collegare alle contemporanee vicende storiche del tempo ed in particolare a quelle legate ai fatti e ai protagonisti dello scisma d'Occidente. Ora, qual è la storia della Veracroce? Dobbiamo raccontarla sia pure brevemente per capire poi alcuni brani degli affreschi di Piero della Francesca. Dunque, la storia della Veracroce racconta come Adamo, prossimo a morire, in via il figlio Seth dall'arcangelo Michele per ricevere l'olio della misericordia, ma riceve soltanto alcuni semi dell'albero del peccato che Seth porrà sotto la lingua di Adamo al momento del trapasso. Da questi semi nascerà poi un albero da cui si ricaverà il legno della croce di Cristo. Il legno, considerato inutile, sarà prima gettato tra due sponde di un fiume a ferda ponte. Ora la regina di Sabba, in viaggio per conoscere il re saggio Salomone, sta per attraversare questo ponte quando viene a sapere che questo è il legno della croce su cui sarà crocifisso Cristo. E perciò si inginocchia devotamente ad adorarlo. Ma re Salomone fa rimuovere il legno e lo fa sotterrare perché quel legno potrebbe causare la fine degli ebrei. Il legno viene ritrovato e diventa poi lo strumento della passione di Cristo. Tre secoli più tardi l'imperatore Costantino che si accinge alla battaglia di Ponte Emilio contro Massenzio ha una visione, una visione che è ben nota tra l'altro, che lo sollecita a porsi sotto il segno della croce per sconfiggere il nemico, che infatti viene sbaragliato alle foci del Tevere e la madre di Costantino, Elena, si rega a Gerusalemme per recuperare il legno miracoloso. Soltanto Giuda, l'ebreo, sa però dove è nascosto il sacro legno e non lo vuole rivelare e subisce la tortura del pozzo dove resta per sei giorni tormentato dalla fame. Dopo sei giorni l'ebreo confessa e rivela che le tre croci del Calvario sono nascoste in un Tempio di Venere. Elena fa distruggere il Tempio e riconosce la vera croce perché questa croce imposta sul cataletto di un giovane morto lo fa resuscitare, compie il miracolo. A sua volta poi costrue il re dei persiani, trafugherà il legno, ma Ereaclio, l'imperatore d'Oriente, lo attaccherà sconfiggendolo sulle rive del Danubio. E così Ereaclio riporterà a Gerusalemme la sacra croce e innalzandola in segno di umiltà potrà finalmente entrare nella città. Questa è la storia dell'iconografia dell'intero ciclo. Ora gli affreschi si svolgono su tre registri ed è qui che Piero della Francesca veramente applica al più grande livello possibile e a livello della più alta maturità il discorso sulla prospettiva. Piero risolve la prospettiva dividendo lo spazio in superfici regolari in cui ogni forma si organizza, come scrisse Roberto Longhi, sul filo raso dei piani prospettici. Cioè Piero produce una spazialità architettonica in cui si intervallano volumi regolari ad intervalli regolari ed in cui i contorni delle forme non sono pura linea ma delimitano delle superfici accostate che giocano in profondità matematica e si intarsiano, per citare ancora Longhi, in zone placide e potenti. Piero con il ciclo di Arezzo illustra un'epopea laica, profana, che percorre tutte quante le scene a partire dalle lunette in alto. Qui vediamo la morte di Adamo, dove la prima morte della storia umana è raffigurata come un dramma silente scandito in tre diverse fasi del racconto. Sulla destra Adamo, morente in via Sette dall'Arcangelo Michele, sul fondo vediamo il dialogo tra l'Arcangelo e Sette e sulla sinistra il seppellimento di Adamo. Un'idea questa del modulo narrativo tripartito che era stata già adoperata dal grande Massaccio nell'affresco con il tributo, nella cappella Brancacci della Chiesa del Carmine. Nella storia di Eraclio, cioè Eraclio che riporta la vera croce a Gerusalemme, Piero introduce per scandire meglio lo spazio elementi architettonici ed alberi come quinte colonne, ripartendo la scena in due gruppi bilaterali in cui le figure sembrano essere inserite all'interno di parallelepipedi e questo aspetto volumetrico viene ad essere ancora sottolineato maggiormente dai torreggianti copricapi cilindrici e piramidali. Nella scena dell'adorazione della vera croce da parte della regina di Sab e del suo incontro con il re Salomone, veramente qui vediamo che la sintassi spaziale acquista tutta quanta la propria evidenza ed è sottolineata secondo un modello ed una modalità che è tipica di Piero della Francesca dalla colonna in primo piano che ancora una volta scandisce i momenti diversi dei due episodi rappresentati. Sulla parete di fronte il ritrovamento delle tre croci e la verifica della vera croce, ecco la scena del ritrovamento è immaginata quasi come un episodio di lavoro nei campi, un lavoro svolto secondo gesti rituali, scabri, sullo sfondo di una Gerusalemme che altro non è che Arezzo, quasi per voler rendere quel senso di attualità che può avere la storia, anche la storia sacra. La verifica sulla destra è ambientata tra casamenti di architetture quali si erano già visti in Masaccio ed anche in Alberti e racconta appunto il miracolo compiuto dal Sacrolegno che risuscita un giovane dalla sua lettiga. Nelle ultime storie, ecco è la battaglia di Costantino contro Massenzio, le possiamo vedere rapidamente, Eraclio che combatte contro Cosroe e a destra c'è la decapitazione di Cosroe e ancora il sogno di Costantino, il momento in cui appunto Costantino, l'imperatore Costantino viene invitato a porsi sotto la protezione della croce per distruggere e sconfiggere Massenzio. Qui siamo di fronte davvero ad un capolavoro, tra l'altro dell'uso della luce e del notturno, tanto che in più di un libro si troverà scritto che questo è uno dei primi notturni o forse il notturno più importante a quest'epoca dell'arte moderna europea. È in questi affreschi di Piero della Francesca che prende avvio la pittura moderna, quella che finalmente fungerà da tre di union tra il nord e il sud dell'Italia. Qui vediamo ancora l'annunciazione dove ancora Piero della Francesca adopera il modulo appunto della colonna che bipertisce la scena e dobbiamo, visti gli affreschi di Piero della Francesca, dobbiamo cercare di capire contemporaneamente, ecco tutto quello, il ciclo di Piero della Francesca si svolge ad Arezzo. Ma che cosa stava accadendo a Firenze entro il sesto decennio del secolo? Abbiamo detto che Piero rimane estraneo a Firenze perché a Firenze si va elaborando un linguaggio fiorentino, una difesa del linguaggio nazionale. Questo emerge per esempio molto bene nell'affresco del corteo dei Maggi commissionato a Benozzo Gozzoli in Palazzo Medici nel 1459, eccolo, che è legato all'elogio, all'encomio della famiglia Medici, si configura quasi come una cronaca di costume e sul piano stilistico sembra quasi un ritorno a quelle che erano state le fonti pittoriche garantiste del decennio 30-40 maturate appunto a Firenze. Ed è comprensibile, se si tiene presente, che Benozzo Gozzoli si era formato, tra l'altro, lavorando con l'angelico. Il passaggio alla seconda metà del secolo, sempre per rimanere nel campo della pittura, sarà rappresentato da Alessio Baddovinetti, che farà proprio da anello di congiunzione tra le esperienze primoquattrocentesche fiorentine, cioè l'angelico e l'epeneziano in particolar modo, e la più ampia diffusione di Piero della Francesca, un'oscillazione che però è fatta di aperture e di ritorni. La fresco che avete sott'occhio è la natività nel chiostro dell'Annunziata a Firenze, risente intanto del Piero della Francesca, autore del Battesimo di Cristo, soprattutto per questa ordinata geometria spaziale, per questa luce meridiana e la micrografia del paesaggio, ma Alessio Baddovinetti in altre occasioni, come vi ho detto, non si sottrae anche alla riflessione sui grandi maestri locali del primo Quattrocento. E per capire che cosa sta accadendo in questo momento a Firenze, dobbiamo ritornare un attimo ad Andrea del Castagno, perché è una fase della cultura fiorentina veramente delicatissima. Sulla sinistra trovate, l'affresco di Paolo Uccello, il monumento a Giovanni Acuto e a destra Andrea del Castagno, venti anni dopo, nel 1456, affresca il monumento equestre a Niccolò da Tolentino, in Santa Maria del Fiore, che sembra fungere quasi da cassa di risonanza dell'affresco di Paolo Uccello, però si distacca contemporaneamente anche dalle ricerche di Paolo Uccello, perché Andrea del Castagno elabora una più fiorita e vistosamente anticheggiante figurazione e indulge maggiormente su quelli che sono gli aspetti plastici nel gruppo superiore del Cavaliere Niccolò da Tolentino. Ed è un'attenzione ad elementi tipicamente fiorentini che ci viene confermata sempre per ciò che riguarda Andrea del Castagno, anche nella cosiddetta Madonna di Casapazzi, dove tra l'altro c'è anche un indulgere a quella decorazione, a quella narrativa ornata che era stata parte del linguaggio anche di un dominico veneziano. C'è una sontuosità che appunto non è normale, ecco, nell'attività di Andrea del Castagno e probabilmente, ma ancora altri, sarebbero stati gli sviluppi di questo artista, che sono tra l'altro già presentiti nell'assunzione del Vergine tra i Santi Giuliano e Miniato, oggi nei Musei di Stato di Berlino, che sembra aprire la strada, se osserviamo soprattutto gli angeli, ad una conduzione della linea più movimentata, quale ritroveremo poi ancora nel Pollaiolo, ma riesumare anche certi aspetti appunto ornati che sono propri del linguaggio del veneziano. E tutto questo quindi ancora nella linea fiorentina. Ma va capito perché? Perché? Perché i fiorentini cercano di difendere strenuamente l'elaborazione di una propria identità di stile. I fiorentini erano orgogliosi della loro nazione, dove per nazione noi intendiamo la città di Firenze. La qualità della rinascita fiorentina ed anche la precocità di questa rinascita rispetto ad altre parti d'Italia si erano collocate in circostanze storiche e politiche di tutto rilievo. Intanto all'inizio del secolo Firenze si era trovata a dover essere l'unico baluardo sul territorio italiano della libertà repubblicana contro le mire espansionistiche di Giangaleazzo Visconti. Giangaleazzo Visconti muore nel 1402, ma è un momento drammatico per la città di Firenze. Uscita vittoriosa da questi tentativi che erano stati operati dalla Corte di Milano, Firenze aveva esteso il suo dominio nei territori circostanti e infatti usciva dall'annessione di Pisa nel 1406, di Cortona nell'11, di Livorno nel 21 e mentre a Pistoia fin dalla fine del 300 aveva inviato al governo della città dei propri potestà. Firenze aveva anche forte la coscienza della propria identità nazionale a partire già dall'inizio del secolo, come leggiamo nelle pagine dell'audazio Florentine Urbis del grande umanista Leonardo Bruni, che fu scritta nel 1401 e che veramente risulta tutta quanta intrisa dell'esaltazione delle virtù repubblicane del popolo fiorentino. E anche la riscoperta dell'antichità classica di cui abbiamo parlato fu in effetti funzionale alla formazione di una nuova coscienza civile. Non fu soltanto il repertorio da cui attingere per le arti figurative, anzi il mondo antico venne rivissuto nei suoi contenuti e ristudiato con acribia da filologi. In generale questo primo menesimo fiorentino fu un movimento consapevole anche del fatto che l'Italia linguisticamente e politicamente era frazionata, l'Italia medievale romanza e quindi anche il richiamo all'antichità classica, che era un patrimonio comune e millenario, fu uno dei modi per cercare di superare quel frazionamento e Firenze per conto suo volle appunto riscoprire questa propria identità di nazione e per quanto diciamo la rinascita resti un fenomeno essenzialmente cittadino e municipalistico, tuttavia noi non possiamo negare la forza d'urto che ebbe questa rinascita, se pensiamo appunto ai padri fondatori della svolta moderna per quello che ci riguarda il campo delle arti figurative, cioè Brunelleschi, Donatello e Masaccio. Ecco di questa identità di nazione, di questa svolta i fiorentini ebbero grandissima coscienza per tutto quanto il 400 e noi ne troviamo testimonianza e non soltanto il 400 anche nel secolo successivo e troviamo testimonianza appunto nelle fonti letterarie umanistiche ma qui possiamo ricordare il tono elegiaco con cui Leon Battista Alberti, che era genovese di nascita ma di padre fiorentino, ritornava dall'esilio a Firenze dopo aver peregrinato per Venezia, Padova, Bologna e nel Depictura esalta la sua sopra l'altre ornatissima patria. A Firenze, scrive Leon Battista Alberti, troviamo arti e scienze non udite e mai vedute. Ed egli riscontrava in questa sua patria fiorentina la capacità di far moderno come scrive sanza precettori, sanza esempio alcuno. Cioè Leon Battista Alberti in questo momento sta rivendicando la modernità e quasi l'assenza di modelli che potevano avere eventualmente sollecitato appunto la rinascita fiorentina. In realtà si era trattato di un processo lento, le cose non stavano in questo modo perché appunto era il risultato di un processo secolare, il momento diciamo della svolta fiorentina. Però proprio questo momento in quanto rinascita comportò in definitiva la negazione emotiva del passato e la storia venne quindi rivissuta come modello in nome del presente. Ecco, proprio comprendere perché Leon Battista Alberti esalti a tal punto la patria fiorentina, Firenze che è patria di tutte le arti, ci fa capire anche quanto gli stessi fiorentini potessero desiderare di proseguire su questa strada che per loro era la strada appunto della ricerca di una propria identità. E Leon Battista Alberti poi ci diffonderemo maggiormente nella prossima lezione è proprio colui che incarna al massimo grado in questo secolo le sue qualità di umanista, di pittore, di scultore, di trattatista. Filippo Brunelleschi non aveva scritto trattati e all'Alberti che noi dobbiamo non soltanto il de pittura che abbiamo nominato più volte nel corso delle nostre elezioni. Sappiamo che lui dedicò questo testo, la prima versione in latino a Ludovico Gonzaga e poi quella in volgare l'anno successivo proprio al grande amico Filippo Brunelleschi che gli stimava tantissimo. E sappiamo che Leon Battista Alberti era anche autore di un trattato involgare, il della famiglia, e di un trattato, il de re edificatoria, che viene terminato nel 1452 e che traeva ispirazione ed esemplificazione dal trattato di Vitruvio sull'architettura. E dove con Leon Battista Alberti si viene affermata la nuova dignità dell'architetto, dignità che viene acquisita attraverso il lavoro intellettuale dell'architetto progettista. Ora, proprio la nascita di una trattatistica e di una teoria dell'arte per noi espia anche di un altro atteggiamento e cioè, o perlomeno di un'altra conquista sociale, perché ci rivela che sta cambiando lo status sociale acquisito dall'artista, il quale va emancipandosi da una semplice condizione artigiana e va acquistando appunto coscienza del passaggio da una dimensione semplicemente manuale e quindi artigianale del fare artistico, ad una dimensione intellettuale, dove le cosiddette arti meccaniche acquistano una nuova e definitiva dignità alla pari e alla stregua delle tradizionali arti liberali. Abbiamo detto che Leon Battista Alberti era un esole, nato a Genova, ritorna infatti a Firenze soltanto nel 1434, una volta revocato il bando alla sua famiglia. Abbiamo detto anche che Leon Battista Alberti si era formato nell'Italia settentrionale, in particolare tra Padova e Bologna. Vedremo che Leon Battista Alberti arriva tardi all'architettura, che costituirà uno dei cardini, abbiamo detto, di questa sua attività di teorico e di progettista. Ed è un'attività, questa teorica, che precede poi quella che è la sua prima commissione, che è il Tempio Malatestiano di Rimini, che gli verrà affidato da Sigismondo Pandolfo Malatesta, un capitano di ventura al servizio di Venezia, che in questo momento è al massimo del suo potere. Tra l'altro ha sconfitto da poco addirittura Alfonso V a Piombino, ha contrastato il duca di Urbino Federico da Montefeltro ed è Sigismondo Pandolfo Malatesta che affida appunto ad Alberti la costruzione del Tempio, che esamineremo nella prossima lezione, ma va detto che è un momento importante, questo non soltanto per quello che riguarda l'architettura, ma anche perché all'interno del Tempio ritroviamo un affresco, e seguito da Piero della Francesca, il Sigismondo Pandolfo Malatesta davanti al Santo Eponimo, davanti a San Sigismondo, che ci fa capire bene quanto sia parallelo il viaggio, il percorso in questa fase tra Leon Battista Alberti e Piero della Francesca. Di tutto questo parleremo nella prossima lezione, arrivederci e grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.